e live! però passà da chris a senza chris è un po' uno shock non ce l'hai dell'audio sottofondo di disturbo? registrato nelle strade di tokyo quella roba tipo all'incrocio di shibuya quando ha detto sei sicuro? cosa ha detto? sei sicuro? di simon bari? sei sicuro? ma hai detto vuole andare a x factor? aspetta c'è un'idea io non posso vedere se trova qualcosa di simone barese? ha detto chris se non si trova più su youtube eh sarà andato in india per fare dieci anni di meditazione poi ritornerà cambiato può essere pure che è andato a fare x factor australia astralia che non è l'australia è proprio un altro paese è un paese di fantasia è vero? si si porca miseria sai perchè? spero che non vi è successo niente c'è un bambino che sono piano ma no non si chiama simon bari su youtube ma come si chiama? vieni sei sicuro? che non credo che vivo e viene fuori simon bari aspetta che ci guardi mmmm ci ho iscritto io perchè ma anche chris però è iscritto mi sa dove si va a vedere l'iscrizione? ah io no non mi ricordo neanche la canzone però ho messo quella su eccole qua l'iscrizione vai come si chiama? come si chiama? ehm boh non c'è xfactor italia xfactor madonna quante cacchio di iscrizioni c'ho? boh non so dopo ci guardo allora gioco più cam ah dove andiamo ragazzi? a valle del mar subito qua sotto? 3 e 1 ho aperto il paracaduto per sbaglio ti aspettiamo domani oppure vai sull'acqua e taglialo buonasera oggi festeggio la mia seconda vittoria è grande Akenarion seconda vittoria ma sempre da solo? grande oggi ragazzi ho fatto una da solo grande sono arrivato pure io terzo tipo sulle solo difficile no Akenarie ho appena scritto che ha vinto la sua seconda io si gioco tre volte alla settimana ma è meglio pure ma poi ho fatto la terza partita da solo poi dopo abbandonato sono arrivato centesimo cioè appena sono sceso sono morto io sono arrivato un euro stavo per accogliere la carta igienica capito? nel bagno almeno questa volta era contro i bot l'altra erano tutti umani ah c'è due 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 molto bene molto bene bene ti inizia un po' a divertire invece il mio amico ha detto che mi piace perché la mappa è troppo piccola e troppo verde cos'è? come va la vostra serata? ah io ho iniziato adesso la serata loro invece stavano giochicchiando da qualche oretta crt crash team racing no che cosa si chiama? non crash team racing era crash? crash per modo di vista ecco lo rufi grande siamo riusciti a fare solo una partita o due si c'è i server rotti più rotti di quelli che conosci rotti mamma mia eh lo so ok qui c'è un 6x l'ho pingata allora come siamo messi ah siamo insieme fattenzione vado in questo palazzo qua avete visto qualcuno per caso che atterrà qui? no no non ci ho fatto caso un giubbotto sento una moto? però anch'io la sentivo dirlo allora se trovate un 2x 3x qui c'ho 4x e ho pingato azzurro un 6x qui da me c'è un 4x ok no che servirebbe un ah c'è pinga pinga azzurro 6x dove sono io 4x io scherzassi c'ho un vettore ho 5 kit quindi se qualcuno ne vuole uno dica 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 lei kit 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 muoche comfort kit kit hall che vi pensavate che me ne ero andato e chris cazzo no? ti predo ha detto che avete pensato che me ne era andato no perché io perché io perché io so che Chris è una brava persona che può guardare benissimo il canto ideale grande grande Chris ho trovato un'altra opera se lo volete no io no mannaggia allora vorrei un caricatore steso per pistola labbro se vuoi torno da te ha detto labbro se vuoi torno da te ma no no non sono geloso sicuramente guarda ti traduco ha detto grazie dell'offerta ma attualmente ho rischio e vado avanti esatto bella bella no la macchina ballerina dottor macchina che fai? vado via? ma no la metto al sicuro ma raga che facciamo? c'è dice pieno di colpi pieno di robe c'è kit da tutte le parti andiamo andiamo un po' a sparare aspetta che ho preso i colpi adesso posso ho traduto in cifur si ce l'ho pure io visto che mi cercavi così tanto ah ma qui chris non è non fai casino tu l'hai messa la macchina dentro qua ah bella bella raga c'è questo sono sul tetto sono sul tetto che c'è sul tetto eh sul tetto è bello alto qua dai stavolta vado a dormire per davvero guardi 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 buonanotte cristo allora buonanotte cristo sul tetto c'è il tetto insomma no c'è il tetto è bello alto qua però ho paura che mi cioppini no perché vedo tutte le montagne intorno ma solo nelle tue partite vedo l'ut così floridi nelle mie almeno metà match li faccio con una pistola la pistola una zappa no in realtà è questo tetto qua che è difficile da raggiungere quindi può darsi che ci sia però di solito anche a noi guarda non sono qui potremmo andate qualche montagna che dite ragazzi qui davanti si 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 andiamocela un po' va vai guarda allora linea di volo ditemelo quando non vuole ti guidare che a me non mi dispiace anche perché non so far sparare è un motivo in più per imparare quindi se ingolfa se ingolfa se ingolfa cucca cola madonna come va impennata ce la facciamo ce la facciamo ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce la facciamo anche qua no maledetti no qua non ce la facciamo dai cazzo dai la spingo da dietro no c'è un murino a vento di sopra oh bello l'oriente hai capito lo buttano di sotto discraziato c'è scritto niente non si non si bucano le gomme è esploso si no sono uscito qua non è già ora che stiamo lottando però arriva la gente gente speriamo una granata pingata mettila nella tasca interna oh un livello 3 ho preso di zainol due antidolorifici qua due impugnatura verticale l'ho buttata via due antidolorifici dove 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 e li ho pingati li ho pingati sono lì capito oggi facevo le uno contro uno mi sono buttato uno mi ha seguito sempre tipo a un livello 1495 per dire nel senso che era bravissimo ma ha seguito a due centimetri sempre attaccato io quindi guardavo destra e sinistra mentre volavo non lo vedevo perché stavo attaccato appena sono atterrato io sono andato a piano fucilo ho sentito che ha atterrato ma lui ha trovato atterrato sopra un DBS e ha fatto pam è morto ma dai non ci credo finita la partita subito centesimo raga safe oh arrivo ho posato un mutante bellissimo eh boom ti esplode il motore e poca cola sfonda la barricensione a sgana gay a sgana way allora allora c'è una cera c'è lì davanti e metta il fuori metta i dentro eh occhio però ci si può anche provare dipingo dove c'è una cera eh Ale si qui c'è c'è una cera c'è al pink giallo questa macchina qui nelle montagne non pare di navigare in mezzo al mare con le onde si sembra un martello o un incudine sembra fa il salto altissimo levissimo pulissimo oh c'è un troppo quindi può essere che c'è persone dove c'è un troppo eh magari è nostro dai allora giubbotto e il metto il famas ruppi io io no io non lo prendo vabbè dai lo prendo io c'è un c4 pure aggiuntivo ma ce l'ho già io ok dai il c4 non mi c'entra forse si io ce l'ho no 46 secondi è la safe adesso ma c'entra quant'è il tempo hai preso la macchina ok si venite di sotto l'aricolo massimo oh è distante la safe ancora non abbiamo visto nessuno che proviamo andare sulle montagne al centro oppure ci formiamo prima al centro orale te pengo il centro della montagna ok che è anche il centro della c5 ok qua siamo protetti qua vediamo un attimo attenti dietro guardo dietro attenzione sulle montagne lassù non vedo nessuno dietro pure libero mi pare è possibile che ho sentito sparare da dove siamo arrivati noi no a 120 sarò ecco ecco macchina dove? davanti a noi a 120 come si dice bucato la gomma occhio che potrebbero scendere si stavano esplode eccoli dietro albero madonna mi ha messo a terra in un attimo il giallo l'ho colpito ah si è riparato lì si si sono riparato no non serve non serve madonna l'ho colpito gli ho bucato la gomma fa morto ma che cazzo si chiama cronus si però non c'è mi devo curare aspetta uno sta lì uno sta lì tu l'ho pingata lì vieni che prendiamo la macchina uno qui davanti labbro si si uno davanti a te ale ah no sono in tre ah sono in quattro oh cazzo no porca troia no porca troia gg madonna ho fatto andare 6x no vabbè ho sbagliato comunque il beryl sparacchia un po' troppo da spalla il beryl non credevo facendo malissimo malissimo ho usato malissimo i mirini qual è scusa famas quello lì che c'ha il mirino rosso quello che c'ha no quello è il pino vanta lui di cognome si chiama vanta lui di nome è pino ah pino vanta sta tornando eh eccolo qui guarda che bella partita 100 centesimi tempo di gioco un minuto vedete è solo il volo quella prima 4 su 100 oh ma Yama sai quanto mi sta pigliando Red Dead Redemption che forza più ti prende mamma mia eh sì perché ho scoperto guardando nei talismani le cose che c'è un talismano che ti aumenta la qualità della pelle quindi è proprio quello che mi serve a me e di da dal coso dal trapper quindi dovrei riuscire ad andare a prendere quello che ho visto un blog mi pare che c'è quella roba lì e poi un giorno giocherete no non la messa eh no online passa un anno è uscito messare a Dead Redemption 3 quando ho finito è probabile io l'ho mai incominciato vabbè no si incominciava si per forza la devi incominciare mi sa no la fa incominciare per forza no vabbè a me piace quel gioco mi piace la storia mi piace sempre no no io ci vado a caccia faccio cose come Skyrim ho più di mille ore in totale io andavo a pesca eh prendo l'arco vado a cercare mi sa che online infatti c'è pure lì le missioni da fare ma c'è stato tutto è come la storia anzi lo fa anche il cacciatore dettaglio lo fa tantissime cose allora V Candy Goal ci ha dato di testa è grandissima Zucca Pelata ci ha dato di testa oggi questa ho preso ho preso di teleferica questa qui allora la vieni la vidi la vici o villa villa subito villa subito villa subito castello villa lupo lulà appena partiamo punto interrogativo e sarà dai dove andiamo quali casi quelle pingate ok villa villa dopo ti mando link l'apro di Eros di Eros Neros siamo i villani quello dei re essenziali oh sì il re essenziale oh ma sai che l'hanno fatto passare per quanto io l'hanno fatto ridere sì il re essenziale casi è il plurale di casa esatto casi sti casi niente armi ok no io sono entrato dentro dal cavedio direttamente cos'è un cavedio? no ho sbagliato in realtà sarebbe l'impluvium mamma mia maledetti architetti architetti di merda sarebbe impossibile che faccia broom è la broom del mmm la broom del mmm provate no perché sono uscito pensavo che giocassimo da soli sono fuori eh giubbotto di livello 2 a chi manca pingato eh mi serve il zaino ah ecco l'ho trovato che tu disturba tu hai trovato una siringa da braccio abbracciala eh c'ha ragione c'è pure quelle da culo eh qualcuno si è spogliato qua c'è una giacca nera a terra no no non mi dico che le giacche nere che ho paura di delle giacche nere è stata la mia prima giacca si parla beh infatti ho paura del giacche nere l'ho visto l'ho visto l'ho visto da me da me da me ma è fuori? sì l'ho visto un po' lontano un po' mi trovo a sta casa no mi sono esposto oh e c'è uno qua dietro merda ha buttato la terra uno qui quello dentro casa è morto qui sono morto c'è uno qua dietro pullman l'ho colpita vediamo se la famo ricarica e arrivano altri sei pingatoli sull'arancione niente sono stato scemo sono a terra guarda è qua sento i passi di due madonna tutti e due ti sono saltati fuori minchia tutti e due davanti allora hanno restato pure io uno che l'ho ammazzato ecco l'ora era dura qua ah è vero c'era lo scorso male 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 sale sale non fa male sai qua la salsiccia mi ha fatto più fame era mezza perché adesso me la non mangio fame mangiate un panino intero così a crudo un panino così giusto per riempire a crudo così si si ma ho trovato il video grande ah io devo cercare invece come si chiamava ah sai cosa forse su twitch ho i messaggi privati avevo e mi diceva come si chiamava faccio prima così a forza aspetta aspetta ma non hai salvato nessuna live su da qualche parte no no forse hai salvato le sue canzoni sulla playlist quelle si non c'erano i messaggi privati ma davvero mi sono fatto una copia e un colla sul disco dei messaggi privati ma che vuoi perché non c'è non c'è più è scomparso dai radar la simon bot ma sa che era un bot era simon bot chi è il labbro oh è bravo è bravo te l'ho detto ma cosa sono imitatori o per scherzo eh l'afrostudio sarai 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 e adesso devi decidere Ale terra bronca dove? terra bronca subito ok vai 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 terra bruciata la prima volta che scendono qua vero non so che ci sono andato ah no si ci sono andato una volta da solo ai cerchi nel grano qua cioè di realtà non è cerchi nel grano è un cerchio di grano a me sembrano i teneroni visti da lontano ahahah è vero i teneroni ecco c'ho ancora più fame adesso allora due macchine ma sei tenero allora non vedo gente eh io mi sento affamare perché ridi? non c'è bisogno neanche di guardarsi intorno ci sarà una fumogena oh permesso che paura madonna lo scary scary moment eh dai è stata una salsiccia la ciaciccia che cacchio ho finalmente ho finalmente il panchettone di salvatore? si allora qua ci mettiamo quella corda come sa preparata tu te? si ma questa come ti sei? ma facciamo un bel danno ahhh facciamo 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 casino ma accompagnare serio? ma quasi così mi potrei tenere il vecteur ma non ci siamo più a giocare come ci deve ma si dai ci sono mai riuscito bene bene mi sono fatto del male saltando dalla finestra alta perché? oh c'è stata? car 98 di nuovo ma c'è qualcuno? no 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 madonna è dall'altra parte della safe dell'isola esattamente lato l'angolo opposto non ho mirini eh zero ho trovato ho trovato dove? c'è posto con i mirini? eh un 4x ce l'ho poi mi serve qualcosa l'altro per il vecteur magari anche 7,62 vediamo qua se lo trovo qua c'è un 4x ti serve no? l'hai trovato no 4x sono apposta si si 2 e il 3 il 3 l'avevo lasciato io dentro ma c'è tutto ma c'è tutto 7,62 ah no questo è un giubbotto livello 3 pensa mi parla le 7,62 ma guarda che ci assomiglia minchia come le s7,62 veramente grossi eh si eh sarò le 7,62 qui c'è un pacchetto solo da 30 eh qui l'ho trovato un 6x se volete ho cominciato a recidro qui 556 a me cambia un po' il lato della strada va allora allen due perfi c'è te lo pingo? si pingalo grazie però dove andò a prendere la macchina? ma per strada ce ne erano due ho visto eh dove andò via subito raga perché è esattamente dall'altra parte dove siamo noi aspettami aspettami insomma non tutto almeno un pacchetto di 7,62 ah allora di dentro all'arena ce n'è un pacchetto io vado a prendere la macchina la macchina è qua vieni tieni eh ti va a prendere la cosa io vado a prendere Duma e poi ci rivedremo lì all'arena vabbè cambio butto via 7,62 tutte 5,56 arrivo eh? si si ecco madonna che cosa devo buttare via? ecco a sognare ancora un po' entra dentro l'arena ma quanta bella roba qui c'è una fumogena wow dalle montagne li ho visti eh dove sono? qua dietro qua dietro qua dietro sulle montagne eh? si Ruiz mi mirano un cazzo occhio la macchina sta fanno esplodi cazzo stavo lì imbambolato a cercare di cambiare il 4x ma oh questa non mi ha sparato cazzo ce nemmo uno anche dietro mi sa oh l'hanno sparata dalle su le gomme ce nemmo uno dietro ragazzi uno dietro? e mi pare di si dai via andiamocene la macchina dov'è? eh la macchina è bucata ne vado a prendere un'altra si e la faccio ne vado a prendere un'altra ragazzi vado anche io vado a prendere quella da 2 poi vado a prendere quella da 4 no l'ho presa quella da 4 eh ah ce l'hai già eh? ce l'ho eh quella da 4 ok vabbè ormai ritorno ma cazzo se ne è andato ma il cazzo se ne è andato ma il cazzo se ne è andato ma il cazzo se ne è andato ritorno basta vai vai Ale tranquillo dove hai montato? dove hai montato Ale? a destra vero? no da qua ritorno indietro siamo andati alla parte opposta eh ah già è vero segui io Ale errore perchè sei andato da Ale? perchè volevo scappare da quelli poi ho capito che voi vi eravate liberati e allora poi ho detto vabbè adesso appena so più calmo che ne affanculo adesso vedo la roccia mi devo curare tra un po' mi savo io adesso mi curo si mercoledì due bande innanzitutto come se stai messo bene io una favola e vai vai potremmo andare avanti così allora si puoi fare tutta la strada volendo questi qua questa qua si facciamo quella esterna si facciamo quella esterna Ale? eh arriva arriva mi sto curando ho preso due antidolorifici a sognare ancora un po' la facciamo tutta questa principale fase 1 eh parte fase 2 si ma si ma ti preoccupare arriveremo prima che faccia buio dovrebbero mettere però i due si fa che fio eh la la si ma di notte ci è già ma è un weekend i due vichinghi no tipo buio pesto i visori notturni no si si trova né più i visori bu si nemmeno vabbè ci fermiamo testa casa qui dopo si sai che mi devo curare Vai Vi do io così te curi pure te dopo Sai che non so mica dove siete Ping giallo sta mandando Ping giallo sta mandando Ma è stato meglio Perché così qui non c'era persone Oh una persona Ecco che pare Dov'è dietro Davanti Non lo è stato niente Finiscilo Merda Ok colpo alla testa ma ne è dato Un M24 È sopra Silos Porca troia Ma quello che si faceva sopra Silos Porca puttana Molto cazzo Alto rischio di morire di safe Mamma mia No perché non ho guardato Non ci credo la macchina si è rimasta con le ruote che girano a vuoto E' un pantanato Vabbè No vabbè No vabbè No vabbè Stavo alla dietro Ping ti che mai è reale passa lì No dimmi che c'è un'altra macchina cazzo Ma porca trota Ramone fa ammazzata quello col cecchino Ma non ci ha chiappato Non ci ha chiappato Allora fase 2 adesso parte fase 3 Mica non arrivo mai più Eh a piedi no Arriva Si si Se non trovi una macchina Ma una bicicletta Non ho case davanti a me Si gioca tutto qui In questo ciringhito Che è pure chiuso Allora se c'è una bici dentro Penso se c'è una bici Ah ma voi siete morti scusa me la sono data adesso E ora che cazzo sto andando avanti Muoio No No non mi curo non mi curo Ho tre kit tre bandi Che cazzo faccio devo correre per dieci minuti e poi arrivare la Ecco mi sono traiato la sole qua Che bella Ah che siamo arrivati lì Lui ha visto uno Ecco posto Al pian po' del sole Il dottore ne ha visto uno E allora gli ha sparato Dopo sono andato oltre a finirlo Ma era invece una squadra da tre Quello stava da solo in mezzo lì O forse quelli erano un'altra squadra ancora Mi immolo Mi immolo Sì sì vedo che c'è quella cosa in mezzo alle ciopette La coda nera Così spari silenziosamente Fa così Senza gli acuti Mi sa che mi fa le olive alla scolana Mamma mia Io stasera ho mangiato Non posso dirlo Due Piadine Quelle Le wrap Col pollo dentro Buono Ancora in partita Sunni Sunni San Ancora in partita Ah non so Ha detto torna subito Ancora Sta a mangiare sicuro Sei ancora in partita? In realtà sta ancora giocando Adesso vince Dopo il famole quelle serie Ah giusto Siamo caldi Sio fame 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 Sio fame